Mi chiamo Davide Botto, io lavoro a Reggio. Io lavoro a Reggio, sono Mimma, lavoro in questo meraviglioso posto che è la Sartoria. Sono primo contrabbasso di quest'orchestra da un sacco di anni. Buongiorno, sono Maria Siracusa, flautista del Teatro Reggio di Torino. Noi ci occupiamo di provare i costumi, adattarli, a volte realizzarli da nuovo. Adesso stiamo realizzando delle mascherine che per la prima volta vedremo una bohème dove i cantanti, le comparse indosseranno le mascherine. Per me la bohème è un'opera particolare anche nella mia vita personale perché io ho conosciuto mio marito, che è il primo trombone del Teatro Reggio dell'orchestra e quindi lavora con me, l'ho conosciuto proprio durante una bohème, proprio col maestro Oren e c'era allora Pavarotti. Quindi è stata un'opera simbolo della mia vita, proprio anche familiare. Solo in questi ultimi giorni sentiamo arrivare finalmente il suono della nostra orchestra, il canto del nostro coro, perché fino a qualche giorno fa nei corridoi c'era un silenzio tombale e questo non è il nostro mondo. Spero che anche il nostro pubblico possa continuare a seguire quest'opera quando anche l'avesse già ascoltata e vista altre volte in questa sala. Su questo suggerimento che propongo in questo momento, cioè di collegarlo a come si è accompagnata quest'opera nella nostra vita. Grazie. Grazie.